carissimi fratelli e sorelle pace e bene buongiorno per tutto il giorno penso che vi siete svegliati in forma nonostante un po di freddo però è il clima il clima allora io vi do qualcosa che vi può che potrebbe riscaldarvi la parola di dio il vero fuoco che riscalda che trasforma che plasma ascoltiamo abbiamo dunque questo brano di barco capitolo 2 versetti 13 a 17 in quel tempo gesù uscì di nuovo lungo il mare tutta la fola veniva a lui ed egli insegnava loro passando vide levi il figlio di alfeo seduto al banco delle imposte e gli disse seguimi ed egli si alzò e lo seguì mentre stava a tavola in casa di lui anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con gesù e i suoi discepoli erano molti infatti quelli che lo seguivano allora gli scrivi dei farisei vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani dicevano ai suoi discepoli perché mangia e beve insieme ai ai pubblicani e ai peccatori udito questo gesù disse loro non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati io non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori parola del signore ecco non sono venuto a chiamare i giusti perché i giusti non hanno bisogno del medico ma pietro io sono venuto per i peccatori perché hanno bisogno di me perché sono qua per portare la guarigione a loro ecco carissimi gesù risponde a questi farisei che hanno trovato nel gesto di gesù cristo uno scandalo qual è il gesto di gesù mangiare con i peccatori e i pubblicani ma che sono questi peccatori i peccatori non sono solo quelli che hanno la colpa morale ma anche quelli che non rispettavano la legge e i precetti per i farisei questi sono i peccatori sono anche i peccatori perché non rispetta non rispettavano la legge e i precetti allora gesù viene a salvare queste persone la guarigione passerà tramite la conversione la conversione perché dalla loro conversione vivranno ecco carissimi penso che oggi tocca a noi anche di riflettere sulla nostra condizione sicuramente siamo anche noi malati e abbiamo bisogno del del medico celeste non ci comportiamo come i farisei l'orgoglio che si giustificano sempre perché tanti di noi hanno bisogno non farò finta ma non ho bisogno di niente non basta non ha bisogno di nessuno ma invece ha veramente bisogno non serve a nulla sia umile sia semplice hai bisogno chiedi matteo 77 chiedete vi sarà dato siamo lì inutile essere orgoglioso non serve a nulla ma l'umiltà e la semplicità che ti permetterà proprio a a vivere degnamente allora carissimi e penso che noi siamo invitati a fare una una profonda riflessione sulla nostra condizione siamo anche noi malati una malattia morale psicologica una malattia fisica una malattia spirituale può essere può essere oggi quante persone hanno perso un sorriso non riescono più a sorridere perché vivono delle situazioni talmente pesantissime non riescono proprio a sorridere altri altri tra di noi hanno perso anche la pace altri vivono dentro una famiglia dentro casa con il fuoco non riescono proprio a essere loro stessi non riescono a realizzare qualcosa non riescono alcuni e subiscono delle pressioni dappertutto al lavoro di qua di là e con questa pandemia anche che siamo malati ma chi chi potrebbe curarci il medico cineste gesù cristo ma gesù non impurrà mai la sua salvezza a noi lui propone siamo noi ad accogliere questa grazia a aprire il cuore per farlo entrare nella nostra vita dentro di noi scendendo dal nostro orgoglio scendendo da 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 tutti i nostri legami che ti impediscono di accogliere cristo una volta che l'abbiamo accolto dentro di noi come ha fatto al feo cioè matteo accolto gesù a casa sua come lo fece anche zaccheo accolto aveva accolto gesù a casa sua e di solito la salvezza è entrata nella casa tua anche noi accolendo gesù dentro di noi la salvezza arriverà e questa salvezza passerà tramite la conversione convertiamoci cambiamo anche noi la colpa non è soltanto degli altri non quando soffriamo qualche parte anche noi siamo responsabili di ciò che succede allora qui tocca un po rivedere la nostra vita per cambiare anche il nostro modo di guardare di pensare di vivere per creare una forma di sintonia per trovare una via giusta ecco l'opera dello spirito per guarirci allora che dio vi benedica sempre che lo spirito ci aiuti a trovare un punto giusto per una vera conversione che ci porterà a una guarigione nel nome di cristo dio è buono in ogni momento di ogni momento dio è sempre buono santa giornata a tutti